Ristorante e pizzeria La Bella Napoli, da 25 anni, il meglio della cucina tradizionale campana Nel centro di Aprilia esiste un angolo della Campania che propone piatti tipici della cucina regionale realizzati con ingredienti freschi forniti da partner storici e affidabili La gestione della famiglia Martino propone servizi dedicati anche ad aziende e comunità come catering e servizio di cucina espressa, ristorazione a menù fisso e non da ultimo, cene a tema per feste aziendali, feste di compleanno, lauree, battesimi, comunioni e matrimoni